Questo è il viale, cosiddetto della mangiatoia, il viale principale che conduce alla Chiesa della Natività. Ma noi ci avviciniamo a quel luogo santo un po' alla volta. Quest'anno volevamo farmi visitare questo luogo singolare qui a Betremme di cui vi mostreremo adesso il significato in ordine alla Natività. Ma entriamo. Entriamo in questa casa che è denominata la Casa di San Giuseppe. È importante, cioè ha questo particolare ricordo che ci aiuta anche a vivere bene il Natale che è la cui storia inizia da questa citazione del secondo libro di Samuele. Qui abbiamo la citazione in arabo e abbiamo la trascrizione in inglese. Il fatto è riferito a Davide che un giorno disse dai che voglio bere un po' dell'acqua del pozzo che c'è in Betremme. Chi avrà il coraggio di andare ad attingere acqua a quel pozzo? E tre suoi guerriglieri, guerrieri, dicono ci andiamo noi. E vengono, attingono l'acqua al pozzo che è in Betremme e la portano a Davide. Dunque, dalla storia sacra, noi sappiamo che qui a Betremme c'era un pozzo, un pozzo anche ben conosciuto e famoso ed era nel centro, all'interno del villaggio di Betremme. Dunque, noi siamo a Natale. Voi sapete che per il Natale Giuseppe e Maria da Nazareth, attraverso la Samaria, vengono qui per farsi censire. Venendo qui, dopo un viaggio faticoso, Maria era incinta, ormai per lei era quasi l'ora del parto, dove si fermano in questo villaggio cittadino di Betremme? Sicuramente uno dei posti fissi dove un pellegrino viene è quello del pozzo ad attingere acqua, a ristorarsi. Quindi, anche questo luogo, questo pozzo antico, probabilmente il più antico di Betremme, è legato certamente a questo viaggio della Santa Famiglia verso Betremme. La Grotta della Natività è quasi oltre il villaggio, perché il villaggio era un po' sul Cocuzzolo. Qui invece siamo prima del Cocuzzolo, quindi sicuramente passando per arrivare al centro e poi per scendere alla Grotta, Giuseppe e Maria si sono fermati a questo pozzo. Ecco la bellezza, anche nel giorno di Natale, di sentire come quasi la progressione dei passi di Maria e di Giuseppe verso Betremme e verso il luogo della Natività. Ma andiamo adesso a vedere con i nostri occhi questo pozzo antico che recentemente è stato restaurato. Quindi, prima di entrare nella cripta, abbiamo questo dipinto nel quale si ricorda l'avvenimento di quel giorno, cioè l'asinello, Maria affaticata per il viaggio, illuminata però dall'alto con la luce che scende sul suo seno, dove sta per venire alla luce Gesù. E abbiamo Giuseppe che va in cerca del posto dove risiedere per quel momento tutto particolare e riceve il rifiuto che noi vediamo qui nelle mani alzate e nell'impotenza quasi di Giuseppe di trovare una soluzione a quel momento così importante della loro vita. Ecco, ma adesso andiamo verso il pozzo. Entriamo dunque adesso in questa che è diventata da qualche anno una cripta di preghiera dove, vedremo tra un istante, c'è il pozzo qui sulla destra. Vedete il nome qui, Katisma, c'è scritto anche in arabo, e significa luogo del riposo, ripensando a quel momento di riposo che Maria e Giuseppe sicuramente hanno goduto accanto al pozzo. Entriamo dunque in questa cripta così raccolta, così cara, dove spesso le persone si radunano per la recita del Santo Rosario, in modo particolare nel mese di maggio e di ottobre. Ecco, questo è il pozzo. Ci sono altri pozzi, ma questo è sempre stato conosciuto come il Pozzo di Davide. Vediamo la pietra antica, vediamo il restauro abbastanza moderno e la bottola che adesso per motivi di sicurezza è chiusa. Il pozzo è profondo circa 8 metri e anche oggi dà ancora acqua e acqua buona, acqua potabile. Il pozzo, si diceva qui fuori, che il luogo si chiama Katisma, luogo del riposo, luogo del ristoro, perché il pozzo aveva l'acqua, perché dove c'era l'acqua lì si andava, lì era come il bar moderno, dove ci si ritrovava, si chiacchierava, si vedeva chi arrivava, chi partiva, ci si scambiavano le notizie, quindi era un luogo di socializzazione, ma sereno, di incontro sereno con tutto il paese che attorno al pozzo aveva il punto di riferimento. Questo pozzo, dicevo, è ancora valido, è ancora acqua buona, è ancora attivo. Qui abbiamo accanto al pozzo anche queste anfore che ci ricordano, se volete, anche il fatto di Gesù al pozzo della Samaritana. E Abuna Fares ci ha indicato che dietro a questa porta, adesso, è stato messo un interruttore, accendendo il quale parte una pompa che c'è nel pozzo, e vi faccio sentire il rumore dell'acqua che comincia a muoversi. Questa stessa acqua non si attinge più con il secchio e la corda, ma qui dietro, appunto, c'è la pompa che ci rimanda a un rubinetto moderno dal quale, però, si può ripescare l'acqua autentica del pozzo, come facciamo in questo momento. Una delle cose belle di Betlemme è che, appunto, si ha questo quasi contatto fisico con quel che qui è avvenuto, perché ancora questo è lo stesso pozzo, il pozzo di Davide, il pozzo di Giuseppe e di Maria, nell'attesa della Natività. Andiamo un momento di nuovo nella cappella per vedere questa bella icona che ricorda la Natività e il momento che precede la Natività, qui a Betlemme. La cripta, restaurata nel 2007, quindi molto recentemente, è stata impreziosita di questa icona fatta da Sor Paola. È un'icona bella, tipica, nella quale vediamo la stella che già sta spuntando su Betlemme. Sotto, in arabo, è scritto che il suo nome è Emanuele, che è Dio con noi. E qui vediamo Giuseppe e Maria nell'attesa della Natività. Vedete che Maria è pensierosa e guarda da una parte, perché con la nascita di Gesù si conclude un periodo, ma se ne apre un altro, che cosa riserverà quest'altro periodo? Che cosa sarà di questo bambino, si domanda Maria, nell'attesa, ha le mani sulla pancia gravida. E Giuseppe è qui, che volta le spalle a Maria, nel senso che è vero sposo, ma non è padre di Gesù, è padre putativo. Però anche lui è pensieroso di quello che sta per avvenire. La nascita di un bambino, di un bambino umano, per così dire, è già sempre un momento di speranza e di preoccupazione. La nascita di Gesù, che è figlio dell'uomo e allo stesso tempo figlio di Dio, comporta un pensiero, una preoccupazione, anche una gioia evidentemente, ma anche una preoccupazione per il suo futuro. Da queste premesse, che cosa sarà? Ecco, vediamo quel momento di attesa del parto. Ci sono già anche gli angeli nel cielo pronti per dare l'annunzio gioioso. La grande gioia che ci annunciano gli angeli. La risentiamo anche con questo nostro colloquio, conversazione o contatto con voi, qui da Betremme. Arriva in questo momento anche Abuna Fares, al quale siamo lieti di domandare, di porgervi un saluto, qui da Betremme. Cari fratelli e sorelle, siamo nella grotta di San Giuseppe, nel convento di San Giuseppe della Chiesa Siro Antiochena Cattolica. E' una grotta di preghiera, perché la nostra comunità è abituata qua a pregare al mese di maggio, al mese mariano, anche di giugno per il Sacro Cuore di Gesù, anche al mese di ottobre. E' oggi un tempo di Natale. Vogliamo augurare a tutti noi nel mondo di dire Buon Natale, questo tempo, tempo di pace, perché Dio viene a visitare noi, Dio con noi. Quando Dio con noi non c'è niente contro di noi. Speriamo un tempo di pace, un tempo di tranquillità, serenità, in questa terra che non è mai vissuta, un tempo di pace. Speriamo, noi sempre crediamo e speriamo, possiamo trovare la pace, soprattutto pace del cuore. Auguri a tutti voi, vi auguro un Buon Natale e felice Anno nuovo. Grazie a lei, grazie a tutti i nostri telespettatori. Grazie a tutti i nostri telespettatori.